Adesso facciamo una lezione sullo spazio. Allora, senti oggi iniziamo a parlare di moda e facciamo la prima lezione. Mi piaceva l'idea di vedere tu come ti trucchi in modo che alla fine posso darti qualche consiglio. Insegnare zero. Non ha capito niente. Sì, no, ti amo. Siamo insieme, pochette. Pistacchio. Riflettere.